Buongiorno, sono Roberta Barbiero, sono un'attrice, la mia città di origine è Venezia, sono diplomata al Teatro Stabile del Veneto e successivamente in doppiaggio sia a Milano con Pino Pirovano, sia a Roma con Luca D'Alfabro. Ho all'attivo vari film come protagonista e coprotagonista femminile, l'ultimo in ordine di tempo è Ma tu mi vuoi bene per la regia di Pier Maria Cecchini, Il Domani di Laura per la regia di Costantino Maiani e Stem Cell per la regia di Giuseppe Di Giorgio, per il quale ho vinto anche un premio come migliorattrice protagonista al Roma International Movie Awards. Lavoro nel cinema, nella pubblicità, in teatro, lavoro come voce e lavoro anche come manista. Queste sono le mie mani e questi sono i miei profili. Grazie, arrivederci.